Da donna matura lascerei perdere e preferirei qualche copertina in meno, questa è l'affermazione della Ferilli che dice la sua consigliando a Vanessa Incontrada di evitare di soffermarsi sempre sulla stessa questione in modo da spegnere il fuoco appiccato ormai diversi anni fa. Inoltre, non molto velatamente, intima a Vanessa di comportarsi da donna matura quale, concentrandosi sulla sua carriera e accantonando il becero chiacchiericcio e i titoli provocatori che la screditano per le sue forme. Su Instagram infatti, alle domande di alcuni follower, l'attrice romana ha dato sfogo ai suoi pensieri circa la questione body shaming e paparazzi. Il consiglio è stato quello di fregarsene. Da personaggio pubblico è normale che accadano determinate situazioni e la soluzione migliore è lasciarsi scivolare tutto.